Nessuna chiusura del centro di assistenza limitata di Longone al Segrino. Sembra essere scongiurato il timore dei pazienti dializzati che fanno riferimento al Cal che in una lettera inviata ai vertici dell'ASS Tilariana hanno espresso il proprio disaccordo e hanno chiesto informazioni in merito alla paventata chiusura. Un'ipotesi scrivono che vediamo sempre più verso la realizzazione dopo aver saputo che il turno del martedì mattina vorrebbe essere al più presto chiuso con trasferimento al Cal di Mariano Comense. Due pagine fitte in cui i pazienti elencano i motivi per cui invece il servizio di Longone deve proseguire. A stretto giro è arrivata la risposta dell'azienda sociosanitaria territoriale. La direzione di ASS Tilariana comunica che non sono previste alcuna chiusura né alcun ridimensionamento del centro in questione e nemmeno uno stop temporaneo. Le azioni che sono attualmente in fase di valutazione dal punto di vista tecnico si legge nella nota diffusa oggi dagli uffici di Via Ravona sono mirate in via esclusiva a rendere più efficiente la gestione del Cal in relazione alla domanda espressa dal territorio e salvaguardando la sicurezza dei pazienti stessi. La direzione, si legge ancora, si è messa in oltre a disposizione per incontrare i firmatari della lettera qualora lo ritenessero opportuno.